È un'emozione come se fosse la prima edizione, perché sono veramente emozionato di ripartire. Sono molto felice e molto fiduciosa. Il Lucas Summer Festival ritorna in scena in grande stile. 80.000 biglietti già venduti e una nuova data che si aggiunge al cartellone della 23esima edizione della Kermess. Ad annunciarlo è il patron della manifestazione, Mimmo D'Alessandro, che a margine della conferenza stampa di presentazione del festival, ha rivelato che ci sarà un terzo big, dopo i Giannotti, Blanco e Biber, a salire sul palco degli spalti delle mura questa stagione. La data è il 20 luglio e il nome è Zuccro Fornaciari. Non abbiamo assolutamente abbassato la sticella, anzi l'abbiamo rinforzato. Noi crediamo tantissimo nel Lucas Summer Festival e siamo orgogliosissimi del Lucas Summer Festival. Un orgoglio che il promoter ci tiene a rivendicare, al fianco del sindaco Tambellini e dell'assessore alla cultura Raghianti, Ricordando l'importante contributo del festival alla promozione della città, sia sul piano nazionale che internazionale, e senza dimenticare il significativo indotto che ne deriva. D'Alessandro spera di segnare il gol dei 130.000 tagliandi, riportando le presenze ai numeri precedenti la pandemia. Ringrazia gli sponsor storici, il presidente onorario della manifestazione, il giornalista Alan Friedman, collegato da remoto, l'amministrazione, ma coglie anche l'occasione per avanzare qualche critica alla politica nazionale e alle amministrazioni dei comuni vicini. Troppo sproporzionati, dice, i contributi statali per le kermesse musicali, e qui l'allusione è ai 250.000 euro stanziati dal governo per il Pistoia Blues. Molti individualismi e poca capacità di fare sistema. Il promoter non nasconde il dispiacere di aver appreso che proprio il 1 luglio, in concomitanza con l'esibizione di Caparezza sul palco di Piazza Napoleone, a Capannori è stato fissato il concerto di Irama.